ciao a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video benvenuti a tutti i nuovi iscritti e bentornati benvenuti nel mio canale allora io sto lavando a terra ne sto approfittando della bella giornata anche se qui ragazzi si lava praticamente sempre mi sono messi i guanti perché ho fatto le unghie nuove dopo ve le faccio vedere e oggi voglio portarvi un pochino nella mia nostra giornata quindi ora sono già le 11 ragazzi 11 di mattina i bambini sono a scuola io appunto mi sto lavando a terra ho ancora la cucina che praticamente ve la mostro un disastro completo cose sull'isola panni da piegare qui sul tavolo aspirapolvere ancora in mezzo cucina ancora che è un disastro divano ancora da sistemare però la la scala perché dopo voglio andare a pulire almeno due tre tapparelle essendo bianche essendo io su una strada particolarmente trafficata soprattutto anche da camion quindi sono molto piene di polvere e le voglio andare a pulire prima con la spazzolina quindi per andare a togliere tutta la polvere tanto la pulizia proprio a fondo l'ho fatta all'inizio quindi voglio andare a togliere la polvere e poi le vado a pulire e poi niente ieri mi sono fatta il ragù quindi mi vado a preparare la lasagna per il fine settimana più la lasagna che mangeremo oggi a pranzo ne farò una media insomma piccolina viene anche mamma a mangiare qui niente ragazzi mi sono lavata già le stanze di l'ho fatto tutto mi manca solamente da sistemare qui per adesso i panni li lascio qua do un attimo una resettata qua in cucina veloce veloce faccio una lavata a terra e poi vado un attimo da euro spin a prendersi benedette lasagne perché ieri mi sono proprio dimenticata a 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non voglio fare il tragitto e quindi le ho lasciate qua in modo tale che dopo, cioè adesso è il tempo che finisco di fare la passata, c'era veloce veloce. Tanto dobbiamo ancora mangiare, quindi con i bambini capiti che si sporca tutto. Voglio fare una lavata veloce ma tutte le stracche vado direttamente via. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, ultime passatine, vedi dove sto con le scarpe perché comunque si fanno tutte, guarda qua, macchie. Controlliamo solamente, ragazzi, se ho preso le chiavi. Ok, prese. Ok, ed ora lascio un attimo la pezza qua, tanto subito vengo. Chiudo e nel frattempo in cucina ci arrivo, finisce di asciugarsi. Comunque ragazzi. Sì, queste qua sono le unghie nuove che ho fatto. L'avevo fatte insomma per San Valentino, però comunque secondo me sono anche molto belle, anche non a tema San Valentino. Mi piacciono veramente tanto, stavolta anche come mi ha fatto la forma, tutto. Poi ha un colore molto neutro e quindi queste sono le unghiette, ragazzi. Come al solito, sempre sta colmo. Dove parcheggerò? Non si sa. Vediamo un po'. Tornata ragazzi, ho fatto veloce veloce, non è il mio solito fare molto veloce, a me piace guardare, mi piace vedere un po' di cosine. Ho preso le due sfoglie, poi ho preso anche il dentifricio, ragazzi. Questo qua, chi lo sa come ho preso il lievito, le mele. E poi mi sono presa, ho speso quattro euro. Questa è qua ragazzi, mi piace un po' di fame. Questa. Barrette con sesamo e cioccolato fondente. E mo' mentre che non vado a casa me ne mangio una. Mi devo muovere perché comunque... Aspetta, l'ho scelta lo sportello pronto. Sono già le 11.38. E devo andare a preparare la lasagna almeno per il pranzo, poi quella là per il weekend. Insomma, pure che la preparo stasera non fa niente. Però quella là per il pranzo sì, o se no mangiamo oggi. Aspettate che... Butto la gomma. E vado dove appoggio qua il cestino. Uh, cosa ne ha fiodato la cioccolata? Si è rotta la cioccolata qui. Assaggiamo. Pure sotto c'è la cioccolata. Buona. Vado. Traffico, traffico, traffico. Ciao. Grazie a tutti 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 e quindi ora le vado prima a spazzolare e poi dopo le vado a dare insomma, gli vado a dare una sciacquata Grazie a tutti 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 Grazie a tutti